Quindi buonasera a tutti, grazie mille per l'introduzione Stefano, come detto io sono Andrea Columbo, ricercatore postdoc all'Università di Bologna, grazie a tutti anche quelli che hanno organizzato questo evento che sarà bellissimo nel corso di questi giovedì, nei prossimi mesi. Andrò a parlare di quelle ricostruzioni paleoclimatiche attraverso le stalagmiti e in generale prima vorrei fare una premessa perché penso che sia importante studiare il clima del passato e questo è importante per conoscere quello che è il sistema climatico come sistema naturale in un lasso geologico molto ampio e per riportare quello che abbiamo imparato, per riuscire a capire quello che succede odiernamente e applicarlo a quelle che sono le previsioni per le variazioni climatiche future. Ma allo stesso tempo penso che sia molto importante anche studiare e conoscere quello che sia stato il clima durante un momento fondamentale della storia passata, ovvero la scomparsa del Neandertal. E questo è per capire qualcosa in più di noi, perché alla scomparsa del Neandertal bisogna collegare anche quella che è l'espansione di un'altra specie di Homo, che è l'Homo sapiens, che è la nostra specie. Quindi riusciremo a capire qualcosa in più rispetto a noi stessi di fatto e ai nostri antenati. E lo faremo attraverso le stalagmiti in questo caso, campionate in Sud Italia. Quindi possiamo partire. Parlerò di stalagmiti utilizzate come un archivio paleoclimatico, quindi come un qualcosa che registra delle informazioni rispetto al clima del passato. Ma di fatto com'è che si formano le stalagmiti? Se noi prendiamo la formazione di una stalagmite che cresce dal basso verso l'alto e la prendiamo come una ricetta in cucina, capiremo che abbiamo bisogno di quattro ingredienti fondamentali. Questi ingredienti sono, prima di tutto, l'acqua. E l'acqua per una stalagmite proviene dalla pioggia. La pioggia che si infiltra nel terreno, arriva in grotta e rilascia il carbonato di calcio sotto forma minerale. Poi di fatto abbiamo bisogno del carbonato, che è la roccia, che deve essere sciolta per poi essere riportata di nuovo sotto forma solida in grotta. Ma di fatto la roccia può essere sciolta esclusivamente se abbiamo la CO2. Senza CO2 la pioggia che si infiltra nella roccia non riesce a sciogliere la roccia stessa. Questa CO2 proviene dai suoli, però questa CO2 è presente nei suoli solo e esclusivamente se al di sopra dei suoli abbiamo la vegetazione. E ultimo, non meno importante, ingrediente fondamentale, abbiamo bisogno di un gocciolamento in grotta per far sì che quest'acqua sovrassatura di carbonato di calcio depositi la nostra stalagmite. Solo a partire da questa ricetta abbiamo la prima informazione paleoclimatica di fatto. Ovvero, se noi sappiamo che le stalagmite si formano esclusivamente se piove e se in superficie c'è la vegetazione, significa che le stalagmite si formano solo se il clima è umido ed è caldo. Di contro, le stalagmite non si possono formare se il clima è arido, che questo sia un deserto freddo o un deserto caldo, non importa. Se non piove, le stalagmite non si formano. Ora vorrei portare l'attenzione su questa didascalia. Qui siamo nel deserto del Nallabor, in Australia, dove ci sono un corposo numero di grotte. Siamo nella piana meridionale centrale dell'Australia, ed è una piana, a parte essere pianeggiante per una superficie superiore a quella dell'Italia, ma è un clima odiernamente molto secco. In questa parte del mondo piove più o meno una o due volte all'anno. La vegetazione è molto scarsa, questi cespuglietti riescono a sopravvivere catturando l'umidità dall'aria, ma di fatto non piove mai. Questa è la situazione che troviamo all'esterno, mentre questa è la situazione che troviamo all'interno della nostra terra, nelle grotte del deserto del Nallabor. E per quello che abbiamo detto prima, ovvero per i nostri ingredienti fondamentali per la costruzione delle stalagmiti, significa che in questo caso, è quella che qui ho voluto definire, un cambiamento climatico visibile, che significa che se al di fuori abbiamo la percezione che il clima odiernamente sia desertico, all'interno vediamo con i nostri occhi che un tempo, in un passato geologico più o meno lontano, il clima non era desertico, quindi significa che qualcosa è cambiato, un tempo pioveva e ora non piove più. Questi erano dei cambiamenti climatici visibili, ma di fatto la paleoclimatologia si fa con quello che in inglese vengono definite dei proxy geochimici, ovvero delle informazioni che dobbiamo ottrarre da quella che è la chimica delle stalagmiti. E le stalagmiti sono fatte principalmente di carbonato di calcio. Ora, se escludiamo il calcio, dimentichiamocelo per ora, ovvero CA, le stalagmiti sono composte da carbonio e da ossigeno. Però di fatto il carbonio e l'ossigeno non esistono in forma univoca, unica, ma il carbonio e l'ossigeno, come tante specie chimiche, sono anche composte dagli isotopi, che sono sempre la stessa specie chimica, ma c'è qualcosa di diverso. Sono più o meno pesanti, proprio a livello di massa. E questo è molto importante per le nostre ricerche, perché il rapporto degli isotopi stabili del carbonio, ovvero C13 e C12, nelle stalagmiti, deriva dalla CO2 che abbiamo visto prima. E questa CO2, la variazione deriva, come abbiamo visto, dalla vegetazione. Quindi, studiando le variazioni degli isotopi stabili del carbonio nelle stalagmiti, abbiamo un'informazione riguardo la vegetazione del passato. Stessa cosa con l'ossigeno. Abbiamo diversi tipi di ossigeno, o 18 e o 16, e il loro rapporto e la loro variazione nel tempo, nelle stalagmiti, dipende da quelle che erano le caratteristiche della pioggia durante la deposizione, ovvero la formazione della stalagmite stessa. Quindi, se pioveva di più o pioveva di meno, e altre caratteristiche della pioggia che vedremo magari dopo. Giusto per dare un accenno di geochimica, di solito il termine isotopo è qualcosa che spaventa quando facciamo chimica al liceo, o magari anche dopo all'università. Di fatto, l'ossigeno si presenta comunemente come O16, abbiamo 8 elettroni e 8 neutroni, che fa 16, l'O18 è totalmente uguale, l'unica cosa è che ci sono due neutroni in più nel nucleo, e quindi il peso finale diviene 18. Ora sto facendo una storiella abbastanza semplice, ma di fatto tutti quelli che sono i processi che regolano, per esempio, la composizione degli isotopi delle piogge, a partire dall'evaporazione marina, che è qui, penso che vediate la freccia, fino alla transazione e allo spostamento delle nubi cariche di pioggia, alla pioggia che si infiltra nel suolo e poi forma le stalagmiti nelle grotte, è un processo molto complesso e bisogna interpretarlo ogni volta che si procede con questo tipo di studi. Però per ora teniamo in mente che quella che è la composizione isotopica delle stalagmiti può essere ricollegata, uno alla variazione della tipologia di vegetazione esistente in superficie, e due a quelle che sono le caratteristiche della pioggia. Però comunque stiamo parlando di clima del passato, e quindi dobbiamo avere un metodo per riuscire a capire quella che è l'età della nostra stalagmite. E questo lo facciamo attraverso la geocronologia, utilizzando il metodo dell'uranio-torio. L'uranio in tot di tempo decade in torio, è un tempo noto. Se noi siamo capaci di analizzare questa stalagmite per l'uranio e per il torio, riusciamo a capire l'età della stalagmite stessa. E se siamo capaci di prendere tanti campioni lungo l'asse di crescita della stalagmite, possiamo ricostruire nel tempo l'età della stalagmite stessa. E questo lo possiamo fare, perché le tecniche moderne ci permettono di prendere un pezzettino minuscolo di roccia, stiamo parlando di 0,1 grammi o anche meno, 0,05, di prendere tanti pezzettini di roccia lungo l'asse di accrescimento e analizzarli. Cosa succede? Utilizziamo un trapanino da dentista e stacchiamo questi pezzettini di roccia, facciamo un trattamento chimico con il quale separiamo chimicamente e fisicamente l'uranio ed al torio e lo analizziamo in questa macchina che si chiama spettrometro di massa. Ho messo qui questo sfondo, non a caso perché è un processo molto dispendioso, non solo da un punto di vista del laboratorio ma anche delle risorse economiche di ricerca, ma in ogni caso inseriamo i nostri risultati in questa formula e abbiamo fuori quello che è il nostro risultato, che è l'età, quanto è vecchia la nostra stalagmite. Quindi per questa prima parte di lezione voglio che prendiate questi messaggi da portare a casa, ovvero che le stalagmiti si formano esclusivamente se piove, quindi c'è acqua e se c'è la vegetazione in superficie. Le stalagmiti possono essere datate con molta precisione e le stalagmiti, la concentrazione di isotopi stabili del carbonio e dell'ossigeno nelle stalagmiti ci danno informazioni sul clima del passato, in particolare sulla vegetazione e sulla pioggia. E qui arriviamo un po' al succo di questa lezione. Questa stalagmite è qui di fianco, che è lunga più o meno 45 centimetri, 400 millimetri uguale. L'abbiamo chiamata PC perché viene dalla grotta di Pozzo Cucù. Siamo in provincia di Bari e siamo vicino a dove è stato scoperto l'uomo di Altamura, che è un neandertal, ed è una foto, questa è una foto molto iconica per chi studia queste cose in sud Italia. In questa stalagmite ho prelevato più di 30 campioni per eseguire le datazioni e su questa linea blu che vedete, lungo il cursore del mouse, ho eseguito le analisi per l'isotopia stabile, con una risoluzione spaziale di circa 0,1-0,2 millimetri. Quindi stiamo parlando di più di 1500 analisi lungo questa stalagmite. E questo è come si presentano i risultati. Ora vedremo una serie di questa tipologia di grafici, non ci dobbiamo spaventare, è abbastanza semplice. Sono tutti fatti allo stesso modo. Sulla base abbiamo l'età, in questo caso espressa in migliaia di anni, e significa che questa stalagmite cresceva da 110.000, qui, fino più o meno a 27.000 anni fa. E questi sono i risultati per quanto riguarda gli isotopi stabili dell'ossigeno, il rapporto degli isotopi stabili si indica con la lettera greca delta, e gli isotopi stabili del carbonio. E vediamo che abbiamo una certa variazione, perlomeno fino a questo punto, dove poi c'è una sorta di non variazione. E da quello che abbiamo imparato prima, questo ci deve già suggerire, che il clima in questo periodo stava cambiando. Ma perché stava cambiando? Quindi, ora non vorrei entrare nel merito di quello che è il cambiamento climatico attuale, che è una cosa totalmente diversa da quello che è il cambiamento climatico naturale, che ha diversi tipi di tempistiche, ha diversi tipi di dinamiche, è un qualcosa di totalmente diverso. Però dobbiamo sapere che il clima può cambiare anche naturalmente. Com'è che cambia? Questa è una ricostruzione climatica dell'ultimo milione di anni, qui è un milione di anni fa, e questa è l'età moderna, qui ci siamo noi, che è stata eseguita non con delle stalagmiti, ma con dei sedimenti oceanici, sempre gli isotopi, ma eseguiti su dei foraminiferi, che sono dei piccoli fossili che si trovano nei sedimenti oceanici. Il clima cambia in maniera ondulatoria, e abbiamo delle situazioni come oggi, o come 120 mila anni fa, o come altre situazioni in passato, che vengono chiamate interglaciali. Significa che il clima sta in mezzo a delle fasi glaciali, che sono delle fasi fredde, ma il clima intergraciale è caratterizzato dal clima simile a quello odierno, ovvero tutto sommato il clima è vivibile sulla Terra, c'è tutto sommato caldo, sto parlando in generale naturalmente, e soprattutto l'ampiezza dei ghiacci è limitata, ci sono le calotte polari, ma sono limitate, e sono limitate rispetto a quelle che erano le fasi glaciali. L'ultima fase glaciale, che è qui, è successa circa 20 mila anni fa, ma ce ne sono state tante nell'ultimo milione di anni. Mi sono dimenticato prima di dire che questi grafici si leggono tutti allo stesso modo. Verso l'alto abbiamo clima più favorevole, ovvero più caldo e più umido, mentre verso il basso abbiamo il clima più freddo e più secco. Quindi parlavamo dell'ultima era glaciale, questo è l'ultimo milione di anni, possiamo ancora zoomare le nostre ricostruzioni paleoclimatiche e andare negli ultimi 120 mila anni, questo è espresso in migliaia di anni, qui abbiamo l'ultimo interglaciale e qui siamo noi. C'è stata una transizione verso l'ultima era glaciale, che è fatta essenzialmente di alti e bassi, il clima diventava un po' più caldo e poi un po' più freddo, un po' più caldo e un po' più freddo, fino al picco proprio dell'ultima era glaciale, che è quando essenzialmente i ghiacci si erano diffusi in maniera maggiore sulla Terra. Per farvi un'idea, questo è come si presenta l'Europa nell'ultima era glaciale. Dobbiamo sapere che durante l'eree glaciale il mare è più basso, perché tutta l'acqua è conservata nei ghiacci, e quindi l'Inghilterra non esisteva come un'isola, per esempio le calotte polari del nord arrivavano qui più o meno alle latitudini di Parigi, sulle Alpi nostre c'era una calotta polare più o meno estesa e più o meno continua su tutto l'arco alpino e per esempio quello che era il delta del Po si trovava più o meno all'altezza dell'attuale Abruzzo-Molise. Quindi una situazione nell'ultima era glaciale totalmente diversa rispetto ad ora, nell'ultimo picco glaciale. E quindi possiamo iniziare a trarre delle conclusioni. Questa è la ricostruzione paleoclimatica che abbiamo visto prima, che non vi ho detto ma è stata fatta sempre tramite gli isotopi, però tramite delle carote di ghiaccio, come vengono chiamate, che sono state prese in Groenlandia. Quindi questo di fatto esemplifica quello che è la variazione del clima in Groenlandia, ovvero al polo nord. Dobbiamo sapere che le variazioni climatiche ai poli controllano più o meno in linea generale quello che sono le variazioni climatiche nelle altre parti del globo. Essenzialmente se fa più freddo al polo nord, fa più freddo nelle altre parti del globo e viceversa se fa più caldo. Qui, come detto, siamo negli ultimi 110.000 anni e tramite queste barre ho voluto esprimere quello che è la presenza dell'uomo di Neandertal in Puglia, che arriva fino a 42.000 anni fa. Questa linea netta segna l'estinzione dei Neandertal. Mentre da qui, più o meno 45.000 anni fa, arrivano nella nostra penisola i primi uomini moderni, essenzialmente, quindi i primi homo sapiens. Abbiamo un periodo di coabitazione, sono stati coinquilini in Puglia per circa 3.000 anni, e poi Neandertal scompaiono e gli umani moderni che siamo noi arrivano fino ad oggi, siamo sopravvissuti. Possiamo confrontare questa curva paleoclimatica dei ghiacci grenlandesi con quella che è la curva che vi ho fatto vedere prima, che è stata costruita con la stalagmite prelevata a Pozzo Cucù. Qui abbiamo l'ossigeno, gli isotopi dell'ossigeno. Qui abbiamo il carbonio. E possiamo vedere che le due curve combaciano più o meno bene. Vedete, qui la Groenlandia si stava scaldando e anche la Puglia si stava scaldando. Stessa cosa qui, stessa cosa qui. Qui è un periodo un po' più freddo, che non si vede molto bene in Groenlandia, però si vede bene questo periodo di marcato, condizioni un po' più aspri in Puglia, che è controbilanciato dalla Groenlandia. Però allo stesso tempo, mentre qui, a partire dai 50.000 anni fa, fino ai 30.000, in Groenlandia il clima variava abbastanza nettamente, in Puglia non vi era questa tendenza. Ovvero, le piogge variavano un po', però questa variazione di pioggia, ovvero un clima un po' più umido e un po' più secco, non era, come dire, non riusciva a causare una variazione della vegetazione. La vegetazione qui è stata costante, a partire da 50.000 anni fa, fino a 30.000 anni fa. Non è cambiata. Questo significa che anche se si sono verificate delle variazioni riguardo la pioggia nel settore pugliese, queste non sono state in grado di variare quella che era la vegetazione, ma questo ci suggerisce, di contro, che queste non erano così intense, non vi erano, per esempio, dei periodi così aridi e così secchi da causare una variazione nella vegetazione. E questo è proprio quello che accade, appunto, durante la transizione fra Neandertal e umano moderno. In Puglia non vediamo delle variazioni climatiche tali da comportare una variazione di vegetazione e quindi non si sono mai verificate delle condizioni essenzialmente brutali, ovvero da non fornire quelle che sono le risorse fondamentali per quella che è una specie di Omo, essenzialmente l'acqua. Non è mai mancata la risorsa idrica, ha sempre piovuto in maniera costante. E quindi, per fare delle conclusioni, in Puglia, durante la scomparsa del Neandertal, la Puglia non è mai stata caratterizzata da delle variazioni climatiche estreme, non c'è mai stato un freddo estremo e soprattutto un'aridità estrema. E questo l'abbiamo capito da due cose. Uno, che questa stalagmite è cresciuta ininterrottamente per più di 80.000 anni e come abbiamo visto all'inizio, le stalagmiti crescono solo se piove. E allo stesso tempo l'abbiamo capito dagli isotopistabili del carbonio, che ci indicano che non c'è stata una variazione di vegetazione tale da presupporre una variazione climatica importante. E questa è la conclusione principale, che il clima, in questo caso, perlomeno in Puglia, in una nicchia climatica come la Puglia, non è stata la causa primaria per quanto riguarda la scomparsa nel Neandertal. Ora, non so, magari nelle prossime puntate qualcuno vi dirà come in realtà e perché i Neandertal si sono estinti nella nostra penisola. Grazie.